Mentre sono in stallo le trattative per una tregua a Gaza, con l'Egitto che minaccia di abbandonare la mediazione per il rirascio degli ostaggi, l'esercito israeliano continua a stringere la morsa sulla striscia. Terminata dopo sei giorni l'operazione militare a Zaytun, l'IDF intensifica al nord gli attacchi su Jabalia e nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza. Medi arabi parlano di sette persone uccise, undici ferite. Secondo l'emittente al Jazeera, alcuni bombardamenti israeliani avrebbero colpito una clinica dell'Agenzia ONU per i profughi palestinesi nel quartiere Sabra a Gaza City, dieci i palestinesi morti. Il bilancio delle vittime fa sapere il Ministero della Sanità, controllato da Hamas, è salito a oltre 35.000. Nonostante la contrarietà degli Stati Uniti a un'invasione su larga scala e l'appello dell'Unione Europea per uno stop immediato alle operazioni, continua su Rafa la pressione delle forze armate israeliane, attaccate con azioni mirate alcune strutture gestite da Hamas. Secondo le autorità militari di Tel Aviv, sono stati uccisi alcuni esponenti dell'organizzazione terrorista. Da Gaza, diversi razzi sono stati lanciati verso il sud di Israele, colpito un edificio disabitato, intercettati dal sistema Iron Dome, due dei missili. Nella notte, ucciso da un raid dello Stato ebraico in Libano, Hussein Ibrahim Mecchi, comandante degli Hezbollah nel fronte sud. Intanto, l'amministrazione Biden ha notificato al Congresso di voler procedere con la vendita di armi per un miliardo di dollari a Israele dopo lo stop una settimana fa alle spedizioni di bombe ad alta carica.